Nella sezione Test è visualizzata una lista di quelli eseguiti fino ad oggi, per poterli analizzare e confrontare. Cliccando su uno di questi si accende alla schermata di dettaglio che mostra i singoli campionamenti registrati, con la possibilità di apportarvi delle modifiche. Se le misurazioni sono complete è anche possibile visualizzare un sommario grafico. Si ha poi la possibilità di crearne di nuovi cliccando sull'opposito bottone. La procedura inizia con la sua configurazione, durante la quale vengono impostati tutti i parametri necessari, mentre nella successiva schermata dei campionamenti è possibile inserire le singole misurazioni rilevate. Alternativamente è possibile selezionare Carica CSV per importare un test da file. Si consiglia di fare riferimento alla guida più dettagliata che si trova nella pagina dei manual.